L'altissima tensione tra Turchia e Germania dopo un nuovo intervento del capo dello Stato Erdogan che ha accusato la canceriera tedesca Merkel di sostenere metodi nazisti, riprendosi anche al caso di un giornalista turco tedesco, dice stai chiedendo indietro un agente terrorista. L'immediata è stata la replica da parte del ministro degli esteri tedesco Gabriel che ha detto Erdogan ha passato il limite. Ho detto pienamente al mio omologo turco che con quelle dichiarazioni veramente la situazione è diventata eccessiva. Tra l'altro Ankara ha convocato l'ambasciatore tedesco per poter stare contro la manifestazione dei 30 mila kurdi a Brancoforte dove sono state smentolate anche bandiere del BKK. Intanto si è aperto un nuovo punto di tensione anche con la Danimarca. Il ministro degli esteri danese ha convocato l'ambasciatore turco per avere spiegazioni sulle minacce ricevute da cittadini con doppia nazionalità e sono stati minacciati anche le loro famiglie a causa di commenti anti Erdogan sui social media. Minno Siena, Speciale News.